Mailboxis a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19, soddisfa tutte le tue esigenze. La settimana in casa cavese è ricominciata secondo quello che è il programma tipico della preparazione precampionato. A San Gregorio Magno il gruppo a disposizione di mister Emanuele Troise ieri ha svolto un allenamento mattutino in palestra e poi nel pomeriggio si è dedicato al lavoro col pallone sul campo. Così dovrebbe andare anche in questi giorni, fino a quando il periodo di permanenza dei metelliani nel centro gregoriano non sarà finito. Forse domani o al massimo dopodomani il club Aquilotto dovrebbe conoscere anche il girone della Serie D nel quale sarà inserito ed eventualmente verrà a conoscenza di quale potrà essere il suo avversario nella Coppa. Il prossimo test la cavese lo dovrebbe svolgere venerdì pomeriggio. L'avversario potrebbe essere l'AZ Picerno, squadra di Serie C, ma già nel test precedente col Buccino Volcei Troise aveva colto alcune indicazioni. I bianco-blu, pur avendo sostenuto nelle ore precedenti un allenamento fisico, eppur essendo leggermente imballati dai carichi, hanno comunque avuto un buon controllo della partita e hanno segnato anche quattro gol. Bezzon è apparso tra i più reattivi, peraltro si alternava tra il ruolo di mezzala e quello di rifinitore alle spalle degli attaccanti, quindi il 4-3-3 di partenza poteva trasformarsi in 4-2-3-1. Buona prestazione anche del difensore Anzano come terzino, posizione per lui inedita, ed è stato un esperimento che il mister ha fatto in vista del rientro nelle migliori condizioni di Rossi e di Tufano. Anche Palma non ha giocato sabato scorso perché è affetto da problemi muscolari, ma sta svolgendo allenamento differenziato. Ci si chiede a che punto è oggi la Cavese. I tempi dell'apprendimento degli schemi e quelli per fortificare la condizione atletica sono di competenza dei Troise e dei suoi collaboratori. Le amichevoli dovranno aiutare il tecnico a capire in quali reparti occorreranno ulteriori giocatori, però la valutazione dei critici sull'organico è che oggi sia fatto per l'80% e che occorrano ancora tre o quattro giocatori over per avere una Cavese completa. Un difensore centrale, un centrocampista box-to-box, quindi uno che velocemente possa recuperare palla e rilanciare il gioco, e almeno una punta in grado di supportare da vicino Foggia. Dall'acquisto di Tufano, datato 22 luglio, la società non ha più operato in entrata, anche perché ha dovuto perfezionare il cambio di proprietà. Ma anche il fatto del repentino passaggio del club da Santoriello a Lamberti può aver portato il direttore Pietro Fusco a temporeggiare, onde valutare prima il budget che sarebbe stato messo a disposizione dal nuovo massimo dirigente. Si vedrà quello che uscirà fuori dai prossimi incontri.